Il programma europeo Alcotra, che consente l'avvio di progetti di sviluppo sull'intera frontiera alpina fra l'Italia e la Francia, è ormai giunto alla quinta edizione. A partire dal 1990 Alcotra ha finanziato oltre 600 progetti per un totale di 550 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Per i sette anni che vanno dal 2014 al 2020, la dotazione di fondi è aumentata del 3% rispetto al periodo precedente ed è di 199 milioni di euro, di cui 186 per i progetti sui quattro assi strategici individuati e illustrati nel corso di un incontro nell'auditorium della sede di Corso Inghilterra della Città Metropolitana di Torino, incontro riservato agli attori pubblici e privati interessati a presentare progetti. Gli assi strategici sono innovazione applicata, facilitare il trasferimento dell'innovazione e delle tecnologie con una dotazione di 28 milioni di euro, ambiente sicuro con una dotazione di 37 milioni, attrattività del territorio, conservazione ambientale, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, turismo sostenibile, economia verde con una dotazione di 84 milioni, inclusione sociale e cittadinanza europea per favorire l'insediamento e la permanenza di famiglie e persone in aree montane e rurali con una dotazione di 37 milioni. La Città Metropolitana di Torino è l'unica strutturalmente trasfrontaliera, siamo gli unici che confiniamo con la Francia, quindi credo che ci possiamo davvero giocare a un ruolo importante. Io ho dato un suggerimento e vorrei che si andasse in questa direzione, cioè che i progetti che verranno presentati, dei quali noi saremo animatori e che contribuiremo a bandire, quindi a mettere a gara sulla programmazione Alcotra, fossero progetti che fossero sintonici con il nostro obiettivo, cioè quello di rendere la Città Metropolitana sempre più integrata. Noi siamo una realtà molto particolare, molto interessante sotto questo profilo, 315 comuni, un grande comune che è Torino con altri comuni intorno, un'area urbana con altri grandi comuni intorno e poi una miriade tantissimi, 280 piccoli comuni. Noi vorremmo che Alcotra fosse il mezzo per mettere sempre più in integrazione queste diverse tipologie territoriali. Questo è uno dei filoni importanti della programmazione europea, dobbiamo sfruttare bene le risorse che ci sono facendo esperienza e facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi anni e cercando di promuovere il sviluppo per i nostri territori, occupazione per i nostri giovani, uno sviluppo che deve essere sostenibile ma che può nascere anche come sviluppo della sostenibilità, cioè tutta la green economy, tutta questa filiera che può essere una grande opportunità di ricepimento, di recupero di risorse dell'Europa ma anche di sviluppo del territorio.